Ci troviamo al Palazzo Reale di Milano e questa opera che voi vedete in realtà è in qualcosa di visibile e in qualcosa di invisibile. Non tutto quello che si dice e si pensa nel dietro le quinte, però è presente. L'opera nello specifico è stata chiamata In the Light of the Present ed è di Basachi Itsumo. Ci troviamo al Palazzo Reale a Milano, mostra d'arte contemporanea, mai niente di meglio per riprendere il respiro a livello cerebrale. Un premio, l'opera dei pesci. Il primo premio, arte contemporanea. Ciao.